Leggi regionali e testi coordinati più accessibili dal web. Arianna, la banca dati normativa del Consiglio regionale del Piemonte, si rinnova e utilizza le più moderne tecnologie per aumentare la trasparenza della pubblica amministrazione e aiutare i cittadini ad accedere alle informazioni. Da fine novembre tutte le leggi sono corredate da una timeline esplicativa che riporta la sequenza delle diverse versioni di ogni singolo provvedimento. Rinnovate anche le sezioni relative all'attività dei consiglieri e alla ricerca documenti.